Un gioiello dell'ingegneria navale nasce a Cremona. È il catamarano più grande d'Italia, oltre 20 metri di lunghezza per quasi 10 di larghezza, oltre 13 tonnellate di peso, come ci dice il coprogettista Luigi Cirillo. La SCAT 67 si presenta tutta in carbonio, mobili alleggeriti, barche performanti che si differenziano dalla massa, insomma. E' una grande realtà anche per Cremona, una grande soddisfazione sia per noi che per il paese. Tempi di progettazione e costruzione particolarmente impegnativi. Tra studio e progettazione è circa un anno, quindi sono barche molto importanti, custom o semi-custom, insomma, nella nostra peculiarità infatti è quella di riuscire ad accontentare il cliente sotto quasi tutte le sue esigenze. Il varo è previsto per la prossima settimana. I tecnici della Ice Yots di Salvirola sono al lavoro nella nuova sede, nella zona industriale di Cremona, proprio accanto al canale navigabile. La nuova sede è stata scelta per la vicinanza con la via d'acqua che consentirà di raggiungere il mare, superando agevolmente gli ostacoli. Esatto, proprio per il canale navigabile ci siamo trasferiti qui a Cremona. Le dimensioni sono importanti, quindi si parla di una barca da 20 metri 45 per 9,80, e questa sarà la numero 1, la numero 2 sarà 20,45 per 9,08, e quindi difficile da gestire per le strade normali, insomma. Quindi grazie al canale navigabile riuscirete a farla arrivare in mare? Sì, esatto. Un bolide da 2 milioni di euro, veloce e leggero, che potrebbe anche partecipare, viste le caratteristiche, a qualche competizione. Finirà in Slovenia grazie a un armatore appassionato ed esperto che ha voluto dare il suo contributo nel disegnare gli interni. La Ice Yacht aveva già varato un modello leggermente più piccolo qualche mese fa che qui vediamo navigare nelle acque Liguri e sta già lavorando a un'altra imbarcazione che sarà varata nella prossima primavera. Per consentire il varo è stato demolito il muretto della sede e spianato l'accesso al canale navigabile, in modo da consentire il calo in acqua con l'utilizzo di una potente gru. Non è Luna Rossa il catamarano volante esposto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, ma è destinato a raggiungere tanti record, a partire dall'utilizzo del porto canale di Cremona per un varo così prestigioso.